Tu sei Kishiro della scuola di Okuto? Devo eseguire un ordine dell'imperatore. L'Okuto deve scomparire dalla faccia della terra. Perché tu sei un generale del centro? Hai troppe domande, è meglio che tu muoia subito. È tempo di lottare. Primo round. Combattete! Colpo smacca montagna. Tecnica del salto. Torno di protozioni. Colpo smacca montagna. Molto rossi gol. È il momento che i demoni tornino all'inferno. Colpo smacca montagna. Fermo di protozioni. È il momento che i demoni tornino all'inferno. Oh Kuko! Colpo dell'implosione. Colpo del fungo a ripetizione. Colpo del fungo a ripetizione. Colpo del fungo a ripetizione. Meritavi soltanto questo. Una morte così atroce ti si antice come a nessun altro. Adesso è la fine. Rialzati e combatti. Secondo round. Combattete! Colpo smacca montagna. Colpo smacca montagna. Fermo di protezione. Fermo di protezione. Devi morire. Servito di protezione. Salvo di protezione. Vervi! Cervisorio! Cervisorio! Averà! Vervi! Colpo del dolamento totale. Uhhhè! гол SUGUI! Io conosco i punti segreti È soltanto per questo che ti ho sconfitto